destro per il pareggio del giovani lauro c'è caruso che qua però si fa saltare destro in mezzo scafuro pallone fuori battaglia sul punto di battuta vediamo se cercherà la mina in porta sì potente ma sulla barriera battuta per pacariello poi scafuro in porta trofa in due tempi il pallone non è uscito avanza trofa poi tocco per buono è un 2 contro 1 la parata del portiere e poi rilanciato il pallone pacariello vuole crescenzo cantieri buono ranieri crescenzo in profondità scafuro per il 3 a 1 ma il destro è largo alza la sfera crescenzo al volo che cosa ha parato trofa per di orio che controlla poi lo scarico giuseppe buono ranieri due volte tre volte è incredibile il rilancio buono a chiudere cantieri all'opportunità cerca buono lucas palo poi cantieri da solo allarga bene da buono ranieri scafuro si lascia abbastanza andare cantieri a cercare giuseppe buono vediamo che cosa inventa il 3 giuseppe buono scafuro centrale micucci 1 2 attenzione scafuro scafuro centrale arriva alza la sfera scafuro scafuro largo allora micucci caruso che salvataggio che ha fatto a cercare caruso subito da giuseppe buono che alza la sfera del nessuno 2 buono dall'altro lato luca ancora pardon giovani lauro scafuro in porta deviazione trofa la presa e poi calcio a caruso il pallone ha toccato ma arriva 1 arriva 2 e arriva 3 e arriva ora il triplice fischio che dice che può bastare così l'epomeo vince una partita complicatissima contro il giovani lauro vince con la sua voglia di vincere le partite risponde l'epoca Grazie a tutti.